Si allunga la lista dei comuni che nel Vallo di Diano, Cilento e Alburni hanno deciso di sostenere ufficialmente la candidatura di Padula a Capitale Italiana della Cultura 2022. Gli ultimi comuni in ordine di tempo a deliberare sono stati Sala Consilina e Ottati. Era doveroso sostenere questa candidatura, affermano dall'amministrazione salese, per l'importanza e il prestigio che tale obiettivo riveste per la città di Padula e per l'intero Vallo di Diano. Per l'amministrazione comunale di Ottati si tratta di una grossa opportunità di promozione e sviluppo per Padula e per l'intero territorio della provincia di Salerno, perché affermano la cultura ci salverà e questa terra è all'altezza della sfida. Qualche giorno fa ha deliberato il sostegno anche il comune di Buonabitacolo, per la cui amministrazione la felice prospettiva che Padula, con lo suo splendido complesso certosino, possa ottenere questo titolo e un beneficio per l'intero territorio del Vallo di Diano. Attraverso Padula, capitale della cultura 2022, sostengono dal comune di Buonabitacolo, si produrrebbe quello slancio promozionale a beneficio dell'intero territorio. L'assessore comunale alla cultura di Padula, Filomena Chiappardo, ha confermato che finora non hanno fatto mancare il loro appoggio alla candidatura i comuni di Morigerati, Sapri, Sanza, Pisciotta e Capaccio Pestum, ai quali stanno per aggiungersi i comuni di Pertosa, Eboli e Agropoli. La notizia di Padula tra le 28 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2022, inoltre, è stata subito accolta con favore anche dalla comunità montana Vallo di Diano, il cui presidente Raffaele Accetta ha subito parlato di sfida che tutto il territorio deve raccogliere e fare propria.